A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti, salve, sono Maurizio Bartolucci, radiologo presso la radiodiagnostica di emergenza urgenza dell'azienda ospedaliere universitaria di Careggia, Firenze. Ringrazio in primo luogo Paipo e la dottoressa Teresa Renda per l'invito, molto gratuito, a partecipare a questa sessione. Come dato tecnico vi dico che potete fare domande via chat, vi risponderò in seconda battuta attraverso mail. L'argomento di cui mi devo occupare, la diagnostica per immagini nel paziente respiratorio critico, è, come capite, un mondo. Un mondo che ho dovuto semplificare, spero non banalizzare, trattando solo argomenti, solo alcuni argomenti, quali il ruolo dell'Rx del torace, il ruolo dell'attacca del torace, le polmonite infettive, la RDS, l'edema polmonare e il controllo dei device, che tratterò come un volo. Il ruolo dell'Rx del torace. Non ci dimentichiamo che ancora è il metodo più semplice e disponibile per valutare lo stato del parenchima polmonare nei regimi di pronto soccorso e nei reparti di terapia intensiva. Spesso consente la diagnosi rapida e al letto del paziente, di edema polmonare, ARDS, versamento PNX massivo, slargamento mediastinico e vedete l'elenco di tutto quello che ci può fornire. Ovviamente sappiamo già da studi di confronto che è nettamente inferiore rispetto all'eco, ma soprattutto rispetto all'attacca, che rappresenta il gold standard nella valutazione della patologia polmonare e torace in generale, ma è una metodica che ha ancora un rating alto come prima istanza in tutti gli principali sintomi toracici, ossia la prima metodica da eseguire, bedside ed economica, nel paziente che ha dei sintomi toracici. È in grado di fare diagnosi di natura, ma anche diagnosi di esclusione. Ricordiamoci che ha un alto valore predittivo negativo e ai fini diagnostici un RX negativo è prezioso quanto 1 positivo, perché permette di escludere una quota di ipotesi diagnostiche. Quali sono i limiti dell'RX del torace al letto del paziente? Ovviamente i pazienti sono scarsamente collaboranti, questo fa piacere dirlo al radiologo, quindi non sbaglia il radiologo ma sbaglia il paziente. L'unica proiezione in api al letto del paziente con apparecchi portatili, necessità di accelerare i tempi di esecuzione, incompleta visualizzazione dei campi polmonari e limitazioni tecniche legate allo scarso sforzo inspiratorio possibile al paziente e il torace frequentemente ruotato e mal centrato nel radiogramma. L'accuratezza di un torace al letto è molto bassa, vedete, inferiore al 50%. E ve ne porto subito un esempio, eravamo di guardia in una notte buia e tempestosa prima dell'ultimo dell'anno del 2009, arriva un radiogramma in mezzo a tutto il lavoro della notte con un acquisito clinico paziente con dolore toracico e vedete, è molto semplice partire e dire addensamento parenchimale con vellatura pleurica basale destra associata. Abbiamo portato a casa un risultato che grazie a Dio non è piaciuto al nostro clinico di riferimento in emergenza che ha così richiesto a distanza di due ore un radiogramma in ortostasi perché le condizioni della paziente erano migliorate e abbiamo guarito la paziente. Era un torace malfatto dal tecnico, malcondotto tecnicamente, che faceva proiettare la mammella sullo sfondato costo frenico e creava una falsa immagine. Il radiologo in questo caso doveva fermarsi e farlo rifare immediatamente. Quindi la difficoltà comunque nella routine clinica di rifare tutti i radiogrammi a letto del paziente e la difficoltà dell'interpretazione del radiogramma stesso. La TAC ci risolve tutto, ovviamente non gli artefatti da movimento respiratorio, ma è la metodica che ha l'accuratezza diagnostica migliore nella diagnosi delle affezioni toraciche, in regime d'urgenza. Gli esami devono essere adeguati, ormai gli spessori di fetta devono essere di un millimetro inferiore al millimetro, le ricostruzioni multiplanari sono obbligatorie in tutti gli esami. E non vorrei essere tedioso, ma vi devo fare un richiamo di anatomia per farvi capire quello che la TAC vi può fornire come informazione nella patologia diffusa polmonare. E quindi andiamo a vedere i nostri ricordi di anatomia. Il lobulo primario di Miller, quella unità anatomo funzionale fondamentale del polmone, che è la porzione di parenchima polmonare distale al bronchiolo respiratorio, che ovviamente non viene vista dalla TAC. L'acino polmonare lo stesso, questo costituisce tutto l'acino, distale al bronchiolo terminale, che è l'ultima via di conduzione delle strutture bronchiali, quindi l'ultimo spazio morto, che anch'esso non viene visto dalla TAC. Bensì, la TAC riesce a vedere il lobulo secondario di Miller, anche in condizioni fisiologiche talora. Il lobulo secondario di Miller è delimitato perifericamente al mantello dall'intestizio suppleurico, che manda fini sentimenti connettivali all'interno del parenchima polmonare e lo sottivide in compartimenti, i lobuli secondari appunto, al cui centro decorre il bronchiolo e l'arteriola centrolobulare, mentre nei setti interlobulari e suppleurici decorrono le venule. Questo è importante, è importante perché con questo meccanismo riuscirete a capire dove si va a localizzare la patologia diffusa polmonare. L'intestizio quindi periferico è costituito dall'intestizio suppleurico e dai setti interlobulari, l'intestizio assiale è quello che va lungo l'asse bronco-vascolare fino al centro dell'obulo secondario e l'intestizio centrale è quella fine rete connettivale che non si vede mai se non in condizione patologica tesa fra l'intestizio assiale e l'intestizio periferico. Ancora, questa è la sintesi dei compartimenti dell'intestizio polmonare, come vi ho detto, semplificati e vedete i linfatici, i linfatici che decorrono lungo l'asse bronco-vascolare, quindi all'interno del centro lobulo e lungo i setti interlobulari. Questo ci servirà a capire che cosa? A capire immediatamente che i setti interlobulari nell'edema polmonare li vedrete come ispessimento liscio. Questo ispessimento liscio dei setti interlobulari è dovuto ai linfatici, vedete, che anche determinano queste cuffie per i bronchiali e associato, quindi, disegno dell'obulo secondario centrato dall'arteriola centro lobulare è l'unità minima che riesce a vedere l'attack in questa condizione, diciamo così, di iniziale edema interstiziale e ingolgo alveolare, come potete vedere in questo. Ovviamente al radiogramma tutto vi risulta più semplice, più tranquillo, l'edema interstiziale siete forse più confidenti nel vederlo. Il disegno nero dei setti, ancora una volta, in questo caso, è l'alveolo interessato, quindi abbiamo un riempimento alveolare diffuso e quindi troviamo che cosa? troviamo il disegno nero dei setti e i setti sono totalmente risparmiati e i sepimenti intestiziali si stagliano come immagini ipodense rispetto al riempimento alveolare. Ancora un altro esempio, per farvi vedere appunto la localizzazione della patologia, in questo caso, vedete, tutto è interessato, setti interlobulari, setti centrolobulari che determinano questa finissima reticolazione interna e il riempimento centrolobulare. Questo è un caso di pleumocistis giroveci. Polmonite infettive. Iniziamo a vedere i tre grandi capitoli che avevamo messo, che volevo discutere con voi. Le polmonite infettive perché hanno un ruolo preeminente in tutti i reparti di emergenza, in tutti i reparti e nelle intensive e nelle subintensive. La classificazione epidemiologica, siete voi che me la potete insegnare, sappiamo che serve ad orientare sul dato eziologico, quindi epidemiologico, e a noi questo ci serve. Noi l'approccio diagnostico, anche in questo caso, non può prescindere dalla storia clinica dell'esame obiettivo alla base di una diagnosi accurata. Ricordatevi sempre, a richiesta senza quesito diagnostico, corrisponde generalmente una risposta inadeguata. Quindi preoccupatevi sempre di comunicare al vostro radiologo, che anche non di riferimento, il sospetto clinico. L'RX del torace può darvi il conforto rispetto al vostro sospetto, può indicare la severità della polmonite e permette diagnosi differenziale, sia con altre patologie infettive, tipo ascesse o tubercolosi e non infettive. Ovviamente non tutti questi pazienti faranno la TAC, quando il quadro è tipico non ci sarà bisogno di fare la TAC, l'RX è sufficiente per fare diagnosi in una larga parte di questi pazienti. Quando c'è una discrepanza fra il sospetto clinico e il radiogramma del torace, abbiamo quest'ulteriore strumento bellissimo, ormai usato, forse talora abusato, che è la TAC del torace, che però consente di vedere perfettamente l'estensione e i rapporti degli addensamenti infiammatori e delle lesioni scavate, le diagnosi differenziali negli addensamenti a lenta risoluzione per vomitante neoplasia, eventuali patologie associate, l'origine non infettiva dei nostri addensamenti, come per esempio nelle fibrosi polmonari idiopatiche, nelle forme rapidamente progressive mi viene in mente, la diagnosi differenziale con la linfangite neoplastica o la sospetta patologia tubercolare. I pattern radiologici. I pattern radiologici, vedete, sono caratteristici la polmonite lobare o polmonite alveolare, che hanno come eziopatogenesi lo streptococco, hanno fra gli altri come tipici agenti eziopatogenetici lo streptococco pneumonie e la clebsiella pneumonie, la broncopolmonite come polmonite lobulare da stafilococco aureo o micoplasma, solo per citarne un paio, le polmonite intestiziali virali da micoplasma da pseudocistis e il pattern nodulare, nocardia, aspergillo, micobatteri non tubercolari e emboli settici. Torniamo al dato anatomico che vi avevo citato a poc'anzi, la localizzazione primitiva alveolare nelle polmonite leovari. Ora sapete dove va a localizzarsi e quello che può venire fuori dalla TAC, perché la moltiplicazione dei batteri e l'essudato avverrà all'interno dell'alveolo, con un interessamento intestiziale dapprima molto limitato, ma che poi si estenderà a tutto il parenchima, portando a quell'immagine delle polmonite franche e lobari con il bulging scissurale, che sono i classici casi di epatizzazione, consolidazione alveolare omogenea non segmentaria, frequente interessamento di un lobo, broncogramma aereo sempre ben rappresentato e essudato infiammatorio con aumento di volume. Vedete bene con la TAC, il corrispettivo TAC di questo addensamento lobare superiore che interessa quasi tutto il lobo con il broncogramma aereo nel contesto. La broncopolmonite, a differenza della franca lobare, riconosce nel danno del bronchiolo respiratorio e terminale il primo moment, quindi la bronchite e bronchiolite necronizzante, successiva diffusione, con secondaria diffusione al parenchima polmonare adiacente. Quindi troveremo che cosa? Troveremo delle chiazzette di consolidamento a distribuzione lobulare che tenderanno a confluire fra di loro, ma che come vedete avranno questa disposizione cotonosa con il danno ad origine dal centro lobulo. Quindi il lobulo secondario sarà una diffusione secondaria fino al consolidamento lobare franco. ed ecco un classico esempio, la broncopolmonite da micoblasma con queste sfumate opacità alveolari che interessano successivamente l'intero lobulo, l'obulo secondario, fino ad andare a confluire in attenzamenti più consistenti. La polmonite intestiziale invece, e questo ancora una volta vi serve? Vedete i vostri setti interlobulari che tornano fuori e che delimitano il lobulo secondario? Ecco, sono interessati questi. Gli infiltrati linfocitari intestiziali vanno a localizzarsi nei setti interlobulari, mentre gli alveoli sono privi di essudato. Questo è tipico del virus dell'influenza e parainfluenza, dell'adenovirus, del virus respiratorio sinciziale e del citomegalovirus negli immunocompromessi. I casi della polmonite intestiziale sono casi gravi, possono essere casi molto gravi con desquamazione endoalveolare di pneumociti di secondo tipo, l'essudato fibrino emorragico e le membrane ialine. Nei setti alveolari edema è di infiltrato mononucleato, negli alveoli membrane ialine e osinofile. Può cominciare già il secondo giorno dall'insulto ed ecco il pattern reticolare con questa fine reticolazione o reticolo nodulare per formazione di membrane ialine. Il pattern reticolare che potete vedere che può essere sottostimato al radiogramma in supino è ben dimostrato invece alla vostra TAC. Quando abbiamo una discrepanza e forte sospetto clinico di una polmonite intestiziale, se il radiogramma risulta negativo non ci si deve fermare ma si deve passare a un TAC che sicuramente dimostra prima l'interessamento parenchimale. La polmonite intestiziale può evolvere drammaticamente con un pattern diffuso bilaterale, con infiltrati confluenti, con predominanza centrale, come vedete in questo caso e nel classico polmone bianco a cui ci siamo abituati con le influenze H1N1, in questo caso sottoposto ad ECMO. Lo streptococco pneumonie è la causa, mi soffermo un attimo perché la causa di polmonite batterica più comunemente identificata, il pattern può essere lobare e lobulare di pari frequenza e versamenti pleurici presenti nel 25-30%. Mi ci soffermo perché la classica polmonite che dà soddisfazione al radiologo nella diagnosi e forse anche al clinico in cui si vedono questi grandi addensamenti con il bulging della scissura e quindi quadri molto evidenti già al radiogramma del torace. La legionella inizialmente invece può dare un impegno intestiziale fugace con un successivo riempimento alveolare, questo impegno intestiziale fugace può essere misconosciuto al radiogramma, quando l'interessamento diventa alveolare sicuramente avremo un riconoscimento più sicuro al radiogramma ma meglio caratterizzabile con la TAC, anche se ovviamente nessuno degli addensamenti è patognomonico del fattore scatenante. Il micoplasma è un patogeno più comune fra bambini e giovani, epidemie primaverili, causa bronchiti, bronchioliti, polmonite intestiziali, polmonite alveolari, quindi un po' tutto. Un po' tutto con la partenza della frequente dell'intestizio come vedete in questa polmonite intestiziale da micoplasma con un altro quadro invece di quadro intestiziale associato ai molti pesfumati addensamenti ubiquitariamente distribuiti al mantello per ingorgo alveolare. Il citomegalovirus ancora fra i quadri di polmonite intestiziali ha un pattern reticolare abbastanza suggestivo, un reticolo nodulare, ma su questo avviene generalmente da riattivazione dell'infezione latente in cui appunto la depressione del sistema immunitario generalmente viene poi svelata. Per arrivare al pattern nodulare, gli emboli settici, più frequente causa sono i CVC infetti in cui il pattern nodulare è tipico con multipla opacità polmonare in entrambi i polmoni, generalmente in rapporto con le diramazioni arteriose che talora vanno incontro con la riscavazione. Solo per citarli, le micobatterie non tubercolari, l'aspergillus e l'anocardia possono dare addensamenti nodulari. Quale polmonite? L'Rx del torace non permette la diagnosi differenziale tra polmonite batterica e non batterica. Anche l'HRCT ha una limitata utilità nella diagnosi differenziale tra le varie polmonite infettive. Ma non tutto, non tutto è infezione. Solo questo. La TAC vi fornisce anche ulteriori, ulteriori informazioni, come in questo caso di questo addensamento che sembrava un iniziale addensamento flogistico di trattino infettivo che dopo terapia antibiotica a largo spettro non regredisce, viene fatta e si torna al controllo. Il paziente ha questa estesa area consolidativa. Grazie a Dio la TAC ha un'ulteriore possibilità che è quella di campionare le densità nel contesto e questo ci fa cogliere una densità adiposa nel contesto dell'addensamento, analoga alla densità del tessuto adiposo sottocutaneo e ci orienta per una polmonite lipoidea. Il dato anamnestico era sfuggito, il paziente usava un olio di vasellina, evidentemente suppongo avesse un decubito sinistro per dormire e nel reflusso costante, riconosceva questa causa di questa polmonite lipoidea. L'importante ruolo dell'ATC, tornando al paziente critico, è che consente la diagnosi precoce della polmonite e può anche indicare dove andare a eseguire l'eventuale BAL e l'esclusione della polmonite è sicuramente molto confidente, tant'è che nei pazienti ematologici o comunque pazienti neutropenici è come deve essere utilizzata l'HRCT come tecnica standard per la detezione. Passiamo ora molto velocemente a un altro grande capitolo, la RDS, due grandi capitoli, la RDS e l'edema polmonare. A RDS, la RDS inizia a essere discritta per la prima volta nel 67, sappiamo che nel 94 l'America c'è stata la consensus conference del 94 che definisce la RDS come una dispnea esordio acuto con ipossiemia, con un rapporto PO2-FO2 inferiore a 200, con infiltrati bilaterali LRX e supina del torace e la pressione venosa polmonare inferiore a 18 e più avevamo allora all'epoca l'ALI come entità meno grave. Con la definizione di Berlino sapete bene che l'evoluzione della definizione di ARDS è definita come un danno parenchimale infiammatorio acuto e diffuso che porta a un incremento della permeabilità vascolare polmonare, a un aumento del peso del polmone legato all'imbivizione edematosa e a una perdita di polmone aereato. Si manifesta con grave ipossiemia da meno di una settimana, infiltrati radiologici bilaterali anche in questo caso e assenza di segni clinici, di congestione cardiogena e di sovraccarico. La stratificazione in base sempre all'ipossiemia da 300-200, 200-100 e 100 nella RDS gravi di PO2-FO2 scompare l'ALI. Sappiamo che la RDS interessa particolarmente i clinici perché è ancora una patologia gravata da importantissima mortalità intraospedaliera, da morbilità nei pazienti che sopravvivono e quindi un interesse generale di tutti i clinici che si occupano di intensiva. L'eziologia, sapete che esistono cause dirette e cause indirette, cause polmonari e estrapolmonari, da patrona comunque sempre l'infezione o la sepsi generalizzata, il trauma sia toracico sia extraterracico e vedete tutto l'elenco che può essere svariato, ma al fondo della RDS c'è comunque il danno alveolare diffuso, quale che ne sia l'eziologia e da lesione dell'endotelio capillare. Consta di due fasi, è sudativa e proliferativa che si divide in precoce e tardiva, la fase sudativa nelle prime 24-96 ore caratterizzata da edema alveolare ed intestiziale, distruzione degli pneumociti di primo tipo, una fase successiva proliferativa precoce con infiltrazione cellulare e distruzione dei pneumociti di secondo tipo, iniziale formazione delle membrane ialine e la successiva stabilizzazione fibrotica, inizia l'intensa flocosi, la successiva fibrose delle membrane ialine del set alveolare che va dai 7 ai 10 giorni e successiva. Questo è il correlato anatomo-patologico della fase acuta con le membrane ialine e l'edema e il successivo tessuto di granulazione. Lo scompenso cardiaco-congestizio. Lo scompenso cardiaco-congestizio è una diagnosi clinica, è una diagnosi clinica e ovviamente su cui non mi soffermo, cioè non mi soffermo se non per parlarvi del quadro di edema polmonare, cioè questo lo conoscete meglio di me, il sovraccarico della riduzione dell'agittata, l'incremento della pressione venosa, lo sapete dettagliare molto meglio di me, io vorrei parlarvi solo del quadro di edema polmonare, quello che la radiologia vi può dare come informazione. Questa prima informazione, la ridistribuzione, ci piacerebbe tanto darvela come informazione, ma i pazienti con scompenso cardiaco-congestizio non stanno quasi mai in piedi, quindi la ridistribuzione del circolo polmonare non lo possiamo vedere perché abbiamo perso quel gradiente cranio-caudale, la cardiomegalia talvolta viene sovrastimata dalla proiezione antero-posteriore e lo slargamento del peduncolo vascolare, ma siamo in grado di darvi cosa? L'edema intestiziale sicuramente anche in supino viene documentato, quindi le strie di Kerley che rappresentano quei set interlobulari ispessiti al mantello, l'ispessimento delle pareti bronchiali, laddove avevamo visto decorrere i lenfatici nello spazio per i bronco vascolare, che determinano quell'ispessimento, quelle cuffie per i bronchiali, così come il contorno sfumato dei vasi legati sempre ai lenfatici dello spazio per i bronco vascolare e l'ispessimento delle scissure. L'edema alveolare poi porta a consolidazione broncogramma aereo, un aspetto cotonoso del parenchima polmonare e avversamento pleurico. Vedete questo, quello che è la ridistribuzione apicale in un soggetto che presentava un radiogramma normale, sviluppa un edema a confronto, un iniziale edema intestiziale con una ridistribuzione apicale del circolo, uno slargamento del peduncolo vascolare, uno dei rari radiogrammi in ortostasi, ma come vedete le strie di Kerley che sono questi set interlobulari ispessiti al mantello riusciamo ancora a dimostrarlo, così come un aspetto sfumato dei vasi e un aspetto ispessito delle scissure e le cuffie per i bronchiali. L'edema alveolare porta poi a una distribuzione generalmente iloperilare delle consolidazioni con broncogramma aereo nel contesto, aspetto cotonoso da riempimento alveolare e versamento pleurico bilaterale. Qual è il ruolo del radiologo nella differenziazione dei due quadri? Ma si diceva un tempo che era abbastanza agevole la diagnosi differenziale fra RDS ed emacardiogeno, non è così vero, ma le aree di addensamento a vetro smerigliato della RDS si dice si distinguono bene perché sono soprattutto periferiche e di aspetto irregolare. Presenza di broncogramma aereo, cuore ed ili possono essere nei limiti, il versamento pleurico scarso o assente e l'assenza di spessimenti settali, cuffie per i bronchiali e imbibizioni scissurali, ossia un edema invertito, vedete l'edema polmonare con gli libelli grassi, con profili sfumati, mentre gli li modesti per quanto riguarda la RDS, le sfumate aree di perdensità mantellari, mentre sono iloperilare nell'edema cardiogeno. Quindi vedete riusciamo a dimostrare il cuore veramente globoso, un cuore ai limiti superiori della norma in questo caso. Il versamento pleurico che può essere rappresentato in realtà può essere rappresentato dalle consolidazioni declive che ci sono nella RDS e questo per vedere il dettaglio. Ma per dirla con Gattinoni che ha fatto tanti studi TAC che hanno modificato la comprensione della RDS è la TAC che modifica completamente la comprensione di questa sindrome, che è essenziale nella valutazione ed estensione di gravità della malattia, consentendo di rilevare sia la distribuzione delle alterazioni, modificazioni morfologiche del parenchima polmonare nel tempo e al variare della posizione del paziente. Quindi il ruolo della TAC nella diagnosi, follow up, stratificazione prognostica, valutazione, di complicanze o sequele, ma anche strumento per comprendere la fisiopatologia e ve lo ci farò vedere brevemente. La diagnosi ha dimostrato la non uniformità spaziale e temporale della RDS, la TAC, diagnosi differenziale verso altre forme di edema, diagnosi differenziali tra cause polmonari e verso estratpolmonari. Certamente l'eziologia non può essere resunta dalla TAC, ma ci può dare un'indicazione già alla TAC del polmone, se possono essere cause intra o extra parenchimali. Comunque la TAC è in grado di vedere le alterazioni della RDS come eterogenee, aree di consolidazione, ground glass e polmone areato che coesistono in varia proporzione e distribuzione. Vetro smerigliato quindi, consolidazione, la distribuzione abbiamo detto può essere variabile, omogenea o disomogenea. Se è omogenea ha generalmente un gradiente anteroposteriore. Il broncogramma aereo presente, versamento spesso presente di modesta entità e il cuore nei limiti. Ed ecco un ARDS con aspetto del tutto omogeneo in cui vediamo, partendo dalla sede antideclive, il polmone normo areato, le aree di perdensità a vetro smerigliato e le aree consolidative a sede declive. Vedete un perfetto gradiente anteroposteriore che ci fa dire che è assolutamente un quadro omogeneo con prevalenza nelle aree centrali del polmone. Perifericamente vedete il broncogramma aereo arriva fino all'estrema periferia dimostrando che si tratta di consolidazione e non di versamento pleurico che se c'è è generalmente modesto. La RDS può essere estremamente asimmetrico legato spesso e volentieri a cause intraparenchimali, come in questo caso in cui vediamo alternarsi aree consolidative bilaterali con escavazioni nel contesto e alterazioni a tipo ARDS con consolidazioni e aree di perdensità a vetro smerigliato da causa intraparenchimale. La diagnosi differenziale di ARDS verso sede demacardiogena con l'ATAC è assolutamente più agevole. Assolutamente più agevole in quanto vedete torniamo ai setti interlobulari spessiti in un quadro di diffuso spessimento dei setti interlobulari come in questo caso con l'arteriola centrolobulari, le cuffie per i bronchiali e questi profili sfumati dei vasi. È facile pensare che queste non siano alterazioni flogistico-infettive ma sia l'ingorgo alveolare successivo all'edema interstiziale e il versamento pleurico crea questa teletasia compressiva che è l'origine dell'addensamento parenchimale, non come la ARDS in cui abbiamo cosa? Abbiamo a sede antideclive parenchima polmonare sano, aree di perdensità a vetro smerigliato e aspetto consolidativo a sede posteriore. Ovviamente vedete un esteso enfisema mediastinico legato al barotrauma. La diagnosi differenziale ancora fra cause intra ed extra polmonari. La causa extra polmonare generalmente abbiamo detto ha un aspetto più omogeneo, diciamo un RDS più bellino. La causa intra polmonare ha alterazioni spesso asimmetriche. In una polmonite batterica avremo sicuramente l'aspetto della RDS associato alle addensamenti da flogosi batterica, mentre in una sepsi a partenza addominale come in questa forma da sepsi addominale, vedete abbiamo una forma sostanzialmente simmetrica e omogenea. Questo per riportare un caso, una casistica nostra, causa extra parenchimale, extra polmonare e causa intra parenchimale, il caso che avevamo visto prima con questa estrema asimmetria delle aree consolidative. Qual è il ruolo dell'attacco? Abbiamo detto diagnosi, follow up, stratificazione prognostica. I radiologi hanno provato a dare tutti i numeri che potessero correlare con la prognosi, ma in realtà l'ultima consensus conference del 2012 non si è visto grande correlazione prognostica tra reperti radiologici e mortalità, quindi l'attuale ruolo prognostico della TAC se rimane, rimane quello di ricerca di segni di ipertensione arteriosa polmonare e gli studi quantitativi che possono consentire di visualizzare la quantità di edema che interessa il polmone. Quindi attraverso software, attraverso software di quantizzazione si può avere la quantità di edema che è interessato a questo parenchima polmonare, che può consentire una stratificazione prognostica, ma sono studi che devono ancora essere validati e portati avanti. Il ruolo della TAC, abbiamo detto, la valutazione di complicanze e o sequele a breve termine e a lungo termine. A breve termine, l'enfisema legata al barotrauma, torniamo ai set interlobulari, vedete? Set interlobulari che sono slaminati da aria, quindi enfisema interstiziale, che porteranno in seguito allo sviluppo di fibrosi da barotrauma. E ancora il barotrauma legato sempre alla ventilazione meccanica che ha portato questo enfisema mediastinico, nonché al piccolo pnx, piccola falda di pnx, estesissimo enfisema sottocutaneo della parete, in questo caso. Questo per quanto riguarda le complicanze a breve termine. Se andiamo a vedere le complicanze superiori a due settimane, vediamo che lo sviluppo di pattern reticolari di fibrosi, oltre che permanere un'aumentata densità del parenchima polmonare, inizia a essere significativo. E si sviluppa quindi quella fibrosi polmonare generalmente nelle sedie anteriori, là dove si localizzava il parenchima normoareato, che vengono più danneggiate dal barotrauma. Vedete con queste bronchietasie, la trazione, associate a fibrosi polmonare. Ancora abbiamo detto che non solo diagnosi, follow-up, stratificazione prognostica e valutazione delle complicanze, ma anche strumento per comprendere la fisiopatologia. Strumento per comprendere la fisiopatologia se pensate che il concetto di baby lung è un concetto TAC, è il parenchima che permane a reato, a fine ispirazione e che la TAC è in grado di quantizzare, può incrementare con PIP progressivamente più alte, è un'entità funzionale che migra al variare del decubito del paziente e questo ci porta ancora al concetto di polmone a spugna in cui si hanno densità polmonari che si dispongono secondo un gradiente anteroposteriore. Tale gradiente si inverte pronando il paziente e quindi le aree consolidative andranno a sede parasternale, mentre tornando nel paziente supino torneranno ancora, nel giro di pochi minuti, torneranno ancora a invertirsi le densità. Quindi questo ci ha fatto capire che il danno parenchimale è un danno parenchimale diffuso e che tutto il parenchima è imbibito e è legato, il fatto che sia a sede declive l'area consolidativa è legato sia al ritorno elastico che al peso del parenchima polmonare stesso. Questi studi hanno come conseguenza, questi studi fatti con la TAC, quindi anche del baby lung, del polmone a spugna, hanno portato a modificare anche l'approccio della gestione di questi pazienti che vengono attualmente pronati e che nelle ultime linee guida del 2017 viene consigliata una pronazione di almeno 12 ore al giorno nei pazienti con ARDS, ventilazione meccanica. In questi pazienti la TAC consente inoltre di vedere cosa? Consente di vedere il recruitment, il recruitment al variare della PIP. Posso vedere nello stesso paziente in decubito supino il baby lung, quel polmone normo areato che si ampia all'aumentare della PIP. Dopo alcuni minuti si riesce a documentare l'incremento del polmone reclutato. Quindi punti da portare a casa per quanto riguarda la RDS che è un'entità clinica acuta e grave con su strato anatomo patologico comune, ma è eterogeneo nello spazio e nel tempo. Innumerevoli fattori eziologici e fattori scatenanti. Il quadro radiologico è eterogeneo, dominato da ground glass e consolidazioni. Il radiogramma standard è utile come strumento bedside, ma non rileva la eterogenicità spaziale tipica dell'affezione. La TC qualitativa e quantitativa è metodica di indagine utile per diagnosi, follow up, stratificazione prognostica e comprensione fisiopatologica. Se ho ancora un po' di tempo a disposizione e non vi ho distrutto, farei un volo veloce sul controllo dei device con radiologia tradizionale e TAC. Sappiamo che attualmente larga parte dei device vengono controllati con l'ecografia, vengono messi e controllati ecograficamente, ma un ruolo alla radiologia tradizionale e alla TAC ancora rimane. Non vi faccio vedere tutti i tubi e tutti i device possibili, ma vi faccio vedere quelli che forse interessano di più, sono i drenaggi toracici. I drenaggi toracici possono essere, la complicanza maggiore del malposizionamento, che può essere nel parenchima polmonare, sul mediastino, nelle scissure o extra-toracico. Il malposizionamento più frequente è quello intraparenchimale. Questa posizione qui, che crea sicuramente non solo il mancato utilizzo del drenaggio, ma anche delle complicanze, non può essere dimostrato né con l'ecografia né con l'RX, ma con la TAC. L'RX ne riconosce solo il 25% dei malposizionamenti. Quindi, quando non vi torna il tubo di trenaggio, forse un controllo TAC potrebbe essere opportuno. Ovviamente l'RX è sufficiente nel dimostrare il kinking oppure la dislocazione del catetere nel sottocute, come in questi casi. Andiamo al tubo orotracheale, sappiamo che possono essere controllati agevolmente con l'ecografia, possono essere imbroncati, ma ovviamente in un radiogramma del torace il fatto che sia imbroncato deve essere segnalato, perché porta a teletasia controlaterale, la dislocazione esofagea deve essere sospettata e segnalata. Nonché l'aspetto che non abbiamo a Mickey Mouse in caso di lacerazione della trachea. I device vascolari sono altrettanto importanti, il catetere di Svangans, il contropulsatore aortico, forse sono quelli che ancora di più risentono del controllo radiologico, ma volevo correre velocemente per concludere, verso il sondino nasogastrico. Il malposizionamento di un sondino nasogastrico e il sospetto che sia malposizionato da parte del clinico deve essere segnalato, perché un sondino malposizionato può andare nel bronco e alla prima somministrazione di una nutrizione interale abbiamo un dramma polmonare. E io vi ringrazio per l'attenzione.